Dopo che nella notte tra sabato e domenica intrusi si sono introdotti all'interno del palazzetto dello sport in Darsena a Viareggio lasciando anche cicche sul parchè danneggiandolo in alcuni punti e danneggiando una porta a finestra da dove sono entrati, per altre due notte di seguito l'impianto sportivo è stato oggetto di visite sgradite. Mercoledì notte hanno rubato anche un compressore dal magazzino tagliando una catena del lucchetto del cancello per poi allontanarsi facendo perdere le tracce e la notte tra giovedì e venerdì i gnoti si sono introdotti ancora lasciando tracce della loro presenza. Sul tetto del palazzetto ci dormono la notte e nella zona ci sono frequentazioni poco raccomandabili come hanno segnalato più volte i dirigenti del Cento Giovani Calciatori che gestisce l'impianto. I gnoti si sono introdotti anche all'interno del campo scuola di fronte al palazzetto dello sport c'è preoccupazione per questi continui episodi che si verificano e con fermezza viene chiesta maggiore sicurezza nella zona dove si trovano questi impianti sportivi. Verrà presentata denuncia presso la polizia.